Per il 2012 nuove regole tecniche. La prima riguarda il muso, la seconda gli scarichi. Nel muso la Federazione per Sicurezza ha imposto una diversa altezza massima. Si passa dai 625 cm fino all'altezza della centina anteriore. In soli 15 cm si deve scendere con uno scalino di ben 7,5 cm. Nel disegno lo abbiamo raffigurato senza cercare di migliorare l'estetica del monoposto. Però il risultato è che i musi devono essere più bassi per evitare il pericolo negli impatti laterali. Quanto agli scarichi, niente più scarichi soffiati. Vediamo in trasparenza i lunghi terminali che andavano proprio a soffiare nella zona davanti alle ruote posteriori e quindi nei diffusori creando un beneficio aerodinamico notevole. Nella prossima stagione i terminali degli scarichi dovranno essere contenuti in specifiche aree che abbiamo delimitato in questa raffigurazione con questi rettangoli gialli. L'angolazione del terminale può essere da 10 a 30 gradi in vista laterale e di soli 10 gradi nella vista dall'alto. Un'altra norma obbligatoria per tutti, gli ultimi 10 cm dovranno essere perfettamente rettilinei, come vediamo in questa vista in trasparenza, e di sezione completamente rotonda. Alla fine il confronto dall'alto della soluzione per il prossimo anno in basso è quella attuale del 2011.